Musica Bentornato Goodlier, bentornata Nella lezione finale di questa decade andiamo a gestire i colori Potresti diventare un po' maniacale seguendo questa lezione perché potresti andare a eseguire delle operazioni che normalmente non vengono eseguite che è quella della gestione dei colori Ma a cosa serve? In poche parole a garantirti che la rappresentazione dei colori da parte dei vari dispositivi sia la più accurata possibile Questo al fine di ottenere sia un'efficace rappresentazione dei colori quanto più vicini alla realtà sia per non affaticare la vista per il tempo che un utente mediamente trascorre davanti al monitor Ogni dispositivo ha dei metodi specifici per rappresentare un colore o una gamma di colori che sono dovuti sia alla visione del costruttore alla tecnologia impiegata e alle caratteristiche e soprattutto anche alla qualità dei materiali impiegati nella costruzione del dispositivo Sta di fatto che un colore può avere delle rappresentazioni molto diverse tra un dispositivo e l'altro ma anche a volte all'interno della stessa famiglia di dispositivi Avrei avuto modo di vedere dentro un centro di vendita di prodotti tecnologici dei televisori appoggiati ad una parete che mostrano lo stesso video con risultati molto diversi L'occhio, entro certi limiti, riesce a rilevare naturalmente le differenze In genere non è necessario, come dicevo prima, intervenire in questo specifico settore in quanto le impostazioni iniziali fornite dal costruttore vanno più che bene nella quasi totalità dei casi e dei dispositivi Tuttavia, se devi variare le impostazioni, le alterazioni avvengono cambiando il profilo che è stato settato in precedenza per quel dispositivo Il profilo è un file definito dalla Microsoft o da terze parti in cui sono presenti le caratteristiche di quello specifico dispositivo in una ben determinata condizione d'uso Come esempio Pogrezzo potrei avvicinarti, quanto appena scritto, sui vari profili alla regolazione delle impostazioni che puoi seguire su una stampante Puoi impostare vari parametri di stampa a colori, scala di grigi, o bianco e nero, o bozza, o caratteristiche dell'inchiostro In pratica puoi avere diversi profili anche in base al tipo di carta che utilizzi nella stampante In pratica appunto questi sono i profili già predisposti che ti è possibile variare tramite le impostazioni Se deciderai quindi di intervenire sarà necessario prendere atto delle caratteristiche di un determinato profilo in luogo di un altro Ma come si accede? Naturalmente aprendo il pannello di controllo ed individuando il pulsante gestione colori, ci cliccherai sopra Nella finestra che si apre si presenteranno tre possibili sezioni Dispositivi, tutti i profili e avanzate Ci sono tre pulsanti in pratica, tre settori Dalla sezione dispositivi hai la possibilità di selezionare un menu a tendina nel quale potrai scegliere un determinato dispositivo quindi qui avrai rappresentata la lista dei dispositivi e nella zona centrale avrai eventualmente a presente il profilo settato in quel momento oppure quello che avrai appena caricato All'interno della stessa sezione c'è un pulsante che ti permette di identificare il monitor se eventualmente ne avessi più di uno questo per poter decidere dove andare a impostare il profilo che selezionerai da questo menu a tendina questo appunto è il pulsante identifica monitor Nella stessa sezione c'è una possibile selezione chiamata Usa impostazioni personalizzate per il dispositivo Questo ti consente di personalizzare la scelta del profilo da applicare al dispositivo stesso tramite appunto i pulsanti che ti consentiranno di aggiungere o rimuovere un profilo precedentemente presente all'interno della lista Il pulsante imposta come profilo predefinito se è attivo naturalmente renderà il profilo che avrai selezionato dalla lista o aggiunto come predefinito Infine nella stessa sezione trovi un pulsante profili che presenta varie opzioni Combina che in pratica va a combinare le impostazioni correnti con i valori predefiniti del sistema Reimposta le impostazioni correnti con i valori predefiniti dal sistema oppure carica associazioni quindi ti permette di caricare dei profili che poi andrai ad associare oppure salva il profilo che hai settato La prima possibilità abbina le impostazioni presenti attualmente per quel dispositivo con quelle predefinite dal sistema amalgamando, fondendo il tutto La seconda opzione è reimposta i valori a quelli che sono predefiniti all'interno del sistema operativo La terza opzione invece carica da periferica un altro profilo ad esempio se lo hai memorizzato su pendrive o disco rigido e che potrai associare a quel determinato dispositivo che avrai selezionato dal menu a tendina Infine l'ultimo ti permetterà di salvare il profilo dove meglio credi per conservarlo come copia di backup Nella sezione centrale Tutti i profili avrai i profili applicabili ai vari dispositivi e tramite i pulsanti Aggiungi o Rimuovi potrai ovviamente aggiungerne di nuovi Infine nella sezione avanzate potrai impostare i profili e i parametri relativi alla rappresentazione alla resa dei colori oppure scegliere tra i profili disponibili quale trasformare in predefinito per un determinato dispositivo Questo tramite il pulsante ricarica tarature correnti in modo da far acquisire le impostazioni che avrai selezionato Il pulsante cambia valori predefiniti del sistema in pratica fa sì che tu possa cambiare i profili settati e rendere queste ultime selezioni come predefinite per il sistema e quindi successivamente per i dispositivi La cosa che reputo più interessante in questa sezione è il pulsante Esegui taratura dello schermo che ti consente di avviare una procedura guidata che ti porterà a comparare e nel caso tu lo voglia variare alcuni parametri del tuo monitor o dei tuoi monitor se ne possiedi più di uno Seguirai degli esempi grafici che ti permetteranno di raggiungere lo scopo della miglior visualizzazione del dispositivo tramite un confronto Questa procedura avrà aspetti diversi tra computer e computer per via delle caratteristiche che ogni monitor possiede Anche in questo caso di norma la procedura non è necessaria ma potrebbe diventarla in determinati casi La regolazione può avvenire in vari modi tra i quali una impostazione di cursori mostrati a monitor È possibile che il tuo monitor presenti anche dei pulsanti esterni sul frontale o sul laterale che ti consentono di variare i parametri di visualizzazione ed in alcuni casi anche la posizione delle immagini rappresentate sullo schermo La procedura ti guiderà nella regolazione di questi pulsanti Ciò non toglie che se non venissero presentati potrai utilizzare comunque i cursori presentati all'interno della procedura In tali casi saranno presenti sia i cursori integrati nella procedura sia i pulsanti presenti sul monitor Dovrai seguire le istruzioni e muovere tali cursori oppure regolare i pulsanti esterni per ottenere il miglior risultato mostrato tramite una grafica a monitor Così facendo ottimizzerai la resa di visualizzazione dello schermo dei colori praticamente per tutti i tipi di visualizzazioni, immagini, fotografie, video, testo e qualsiasi altra cosa Questa calibrazione puoi anche non utilizzarla se hai installato all'interno del sistema operativo Un programma di regolazione che magari è fornito anche dal produttore del monitor o della scheda grafica quando li hai acquistati Al termine della procedura verrà creato un nuovo profilo nella gestione dei colori per il monitor e associato naturalmente ad esso Durante tale procedura andrai a regolare vari parametri che potranno variare in base all'hardware che stai utilizzando Quindi le procedure non sono tutte uguali Ecco comunque un rapido resoconto delle possibili regolazioni Potrai andare a impostare i colori base ossia andare a variare i parametri dei colori base Red, green e blu, rosso, verde e blu Regolare la gamma di questi colori e regolare la luminosità del monitor il contrasto ed il bilanciamento tra i vari colori Ad esempio per la regolazione del contrasto ti verrà mostrata un'immagine come questa nella quale dovrai ottimizzare la visione di quanto mostrato dalla descrizione dell'immagine stessa Prima di terminare ti ricordo che potrai consultare comunque e ti stimolo a farlo il libretto delle spiegazioni del monitor per ulteriori approfondimenti ed uso Allora guter andiamo a vedere come regolare le impostazioni dei colori Clicca sul pannello di controllo ed individua il pulsante gestione colori Come abbiamo detto la sezione presenta tre possibili gradi di visualizzazione i dispositivi, tutti i profili e la sezione avanzate Nella sezione dispositivi puoi decidere di selezionare l'uno o l'altro dispositivo sui quali effettuare l'intervento di regolazione Il pulsante identifica monitor ti presenta la possibilità tramite un numero di individuare il monitor o i monitor se ne avessi più di uno sul quale poter andare ad eseguire la regolazione quindi l'impostazione del profilo impostando un segno di spunta su usa impostazione personalizzate per il dispositivo potrai decidere di impostare un profilo ben determinato e personalizzarlo Il pulsante aggiungi profili ti permetterà di caricare o i profili già presenti oppure grazie al pulsante sfoglia individuare un profilo che eventualmente ti sarai salvato in precedenza oppure avrai acquisito in altro modo dopo aver cliccato su ok lo avrai presentato qui e qui ti permetterà di far acquisire questo profilo per questo specifico dispositivo qualora tu ne avessi selezionato uno in precedenza supponiamo il primo in questa sezione lo avrai evidenziato e nel caso in cui non fosse proprio quello predefinito cliccando su questo pulsante potrai impostare questo specifico profilo come predefinito per il monitor numero 1 in questo caso cliccando sul profilo e sul pulsante rimuovi potrai ovviamente rimuovere questo profilo dall'archivio il pulsante profili ti permette di combinare le impostazioni correnti con i valori predefiniti del sistema quindi creare un'amalgama tra quella che è questa configurazione e quella predefinita nel sistema oppure reimpostare i parametri ai valori predefiniti del sistema operativo caricare dal computer un profilo che avrai precedentemente memorizzato oppure salvare le impostazioni di questo profilo per crearti una copia di backup la sezione tutti i profili ti permetterà di evidenziare i profili attualmente presenti all'interno del sistema operativo infine la sezione avanzate ti permetterà di visionare quali sono i profili presenti e quale quello attualmente predefinito per questo specifico dispositivo oppure tramite quest'altra sezione potrai selezionare il tipo di rendering ossia la modalità di rappresentazioni dei colori per un determinato dispositivo la capacità di rendere i colori quanto più vicini alla realtà oppure impostarli per determinati progetti ad esempio scegliere un tipo di elaborazione ben determinata per quel che concerne la fotografia oppure per la grafica commerciale scegliere l'uno o l'altro metodo di rendering ossia di elaborazione comunque ti invito grazie alla guida presente all'interno di Windows di andare a visionare le caratteristiche specifiche di queste tipologie di rendering per avere maggiori informazioni guida che potrai evidenziare tramite questo pulsante informazioni sull'impostazione della gestione dei colori massimizzare e andare a leggere le varie caratteristiche per i vari rendering per ottenere informazioni migliori naturalmente se sei un grafico o una grafica già avrai in tuo possesso queste nozioni il pulsante ricarica tarature correnti ti permetterà di far acquisire eventuali variazioni che avrai apportato o ancora più se vuoi variare i valori predefiniti per i vari profili dovrai cliccare su questo pulsante e andare a cambiare il tipo di impostazione per i vari dispositivi un esempio è facciamo acquisire questi nuovi profili come grafica azientale tipo di rendering predefinito e per profilo definito sRGB display dopo averli fatti acquisire troveremo i valori predefiniti in questa sezione e in questa che è appunto quella che abbiamo variato poc'anzi come dicevo la particolarità di questa sezione è quella di eseguire una taratura dello schermo che ti avvia una procedura guidata che ti dà alcune informazioni che ti porteranno poi ad effettuare delle regolazioni o tramite i pulsanti presenti sul frontale del tuo monitor oppure grazie a dei cursori che si presenteranno durante la procedura in questo caso specifico ti evidenzia tre possibili grafiche che potrai andare ad individuare nella schermata precedente ed effettuare la regolazione al fine di rendere quanto più vicino possibile a questa grafica la regolazione che andrai a eseguire variando appunto questo cursore potrai variare la resa del tuo monitor proseguendo potrai effettuare regolazioni di contrasto e luminosità oppure ignorarle tramite questo pulsante andiamo avanti qui viene rappresentata una grafica che ti evidenza qual è la miglior luminosità che andremo a vedere in seguito ossia dovremo regolare la luminosità tramite i pulsanti in modo tale che si evidenzi questa X nera come dice questa nota e che tu sia in grado di evidenziare anche la camicia di questo modello rappresentato nella immagine ancora potrai andare a regolare il contrasto come dice la grafica questa è la condizione migliore quindi potrai andare a regolare i pulsanti di regolazioni presenti sul monitor al fine di ottenere il miglior contrasto possibile come dice in questa descrizione in modo da ottenere in questo caso specifico la possibilità di vedere le pieghe della camicia ed eventualmente i colori andiamo avanti avrai la possibilità adesso di regolare il bilanciamento dei colori in questa sezione potrai eseguire delle regolazioni tramite dei cursori rappresentanti i colori rosso verde e blu al fine di migliorare la visualizzazione dei colori stessi ed evitare che ci siano dominanti di l'uno o l'altro colore su queste barre grigie andando avanti avrai la possibilità di effettuare una verifica tra la taratura corrente e la taratura precedente e scegliere quale delle due mantenere naturalmente se sei soddisfatto cliccherai su fine altrimenti potrai annullare e abbandonare le regolazioni eseguite e iniziarla di nuovo c'è l'opzione che ti permetterà di migliorare la visualizzazione dei caratteri deselezionando questo segno di spunta non avvierai questa procedura cliccando sopra e cliccando sul pulsante fine si avvierà un'ulteriore regolazione della leggibilità del testo sullo schermo quindi attiva clear type potrai cliccando sul pulsante avanti avviare questa regolazione sul tuo monito specifico quindi potrai decidere se selezionare l'una o l'altra visualizzazione in quattro passaggi per poter migliorare la definizione dei caratteri che il tuo monitor presenterà molto rapidamente eseguiamo una ipotetica procedura che poi andremo ad abbandonare al fine di scegliere qual è la miglior regolazione per il tuo specifico monitor adesso annullerò naturalmente per non far acquisire queste regolazioni improprie che ho eseguito in fin dei conti il senso di questa sezione non è tanto quello di importi una regolazione di profili o del monitor ma renderti cosciente della presenza di queste possibili regolazioni qualora si presenti una degradazione di prestazioni nella visualizzazione dei colori dei vari dispositivi nella prossima lezione continueremo a parlare del pannello di controllo anche se prima avrai presentato il riepilogo come solito ora un forte saluto ciao a presto da Gallo e dalla prossima ciao a presto